tema quale parabola preferisci svolgimento io la parabola che preferisco è la fine del mondo perché non ho paura in quanto che sarò già morto da un secolo dio separerà le capre dai pastori una a destra e una a sinistra al centro quelli che andranno in purgatorio saranno più di mille miliardi più dei cinesi e di avrà tre porte una grandissima che è l'inferno una media che il purgatorio e una strettissima che il paradiso poi dio dirà fate silenzio tutti quanti e poi li dividerà a uno qua e un altro la qualcuno che vuole fare il furbole mettersi di qua ma dio lo vede e gli dice il mondo scoppierà le stelle scoppieranno il cielo scoppierà corsano si farà in mille pezzi i buoni rideranno e cattivi piangeranno quelli dei purgatori un po ridono e un po piangono i bambini del limbo diventeranno farfalle io speriamo che me la cavo i see them bloom for me and you and i think to myself what a wonderful world what a wonderful world what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white the bright blessed day the dark sacred night and I think to myself what a wonderful world what a wonderful world Oh, yeah 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 Oh, yeah